Dopo un anno di assenza, Assassin's Creed torna sugli schermi con una storia ambientata nell'antico Egitto. Il protagonista è Bayek aiutato da altri assassini come mostrato nella demo alla Gamescom. Non mancheranno i personaggi storici, uno dei primi ad essere mostrato è stato Cleopatra. Le location spazieranno da Menfi alle rive del Nilo senza dimenticare la piramide di Giza. Tra le novità la possibilità di utilizzare l'Aquila Semu per sondare il territorio dall'alto. Anche i controlli sono stati completamente rivoluzionati e potrebbero spiazzare i fan. Sulla lunga però le meccaniche risultano più profonde ed entusiasmanti. Assassin's Creed Origins uscirà il 27 ottobre per PC, PS4 e Xbox One.